In queste ore stiamo assolutamente faticando rispetto alle risalite del Cuneo Salino che come nel caso di Caorle vanno intaccare il potabilizzatore e quindi acqua che non è potabilizzabile. Abbiamo dovuto creare una condotta, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato stanotte per garantire l'acqua Caorle che significa acqua per i nostri Veneti ma acqua per tutti i turisti che ci sono, quindi acqua sicura, acqua pulita, acqua potabile. L'ultimo fronte è quello di Caorle ma la lista ormai si allunga di ora in ora, intere frazioni senza acqua, agricoltura in ginocchio, canali prosciugati e le previsioni sottolinea lo stesso Zaia non prevedono inversioni di tendenza nel breve termine. Il presidente della regione lo evidenzia nel giorno in cui diventa ufficiale operativa la sua nomina commissario per l'emergenza con soggetto attuatore il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua, 4 milioni 800 mila euro la cifra messa a disposizione per le prime urgenze dal governo. Sono pochissimi però comunque è importante iniziare. Già iniziare anche perché forse questa estate 2022 non sarà un'eccezione e dunque accelerare sulle opere di stoccaggio dell'acqua diviene la priorità. Le previsioni ci dicono questo, stiamo parlando di mezzo miliardo di euro, approfittare di cave dismesse e di tutti i vasi che abbiamo, crearne una rete in modo tale di avere un serbatoio, una riserva idrica anche per la prossima estate. I fondi non sono reperibili con risorse proprie però abbiamo un bel salvadanaio che si chiama PNRR e direi che il governo deve rinegoziare e fare in modo che si investa sulle emergenze e non su cose inutili. Nel frattempo a fare la differenza sono i comportamenti anche per evitare il propagarsi di nuovi incendi. Qualsiasi fiamma libera o qualsiasi minima favilla, penso al mozzicone di sigaretta che non si dovrebbe buttare comunque per terra, piuttosto che il barbecue fatto in luoghi dove non si può fare il barbecue. O altre fiamme possono dar vita poi a dei disastri come quello che abbiamo visto ad esempio a Bibione dove 150 ettari di pineta storica, secolare, è stata rasa al suolo.